Oggi noi abbiamo depositato e chiederemo che al prossimo Consiglio Comunale venga discusso un atto di indirizzo con il quale si chiede che il Comune di Arezzo, che è una parte lesa in questa udienza preliminare, in questo processo, si costruisca a parte civile. Questo chiaramente a tutela dei interessi della città. A Tennerbanco è ancora una volta il caso Coingas a multiservizi e questo è quanto chiedono le opposizioni in Consiglio Comunale, i gruppi Arezzo 2020, PD, Movimento 5 Stelle e lista rally e lo hanno fatto presentando un atto di indirizzo che impegna il Sindaco e la Giunta ad adottare rapidamente ogni provvedimento necessario affinché vengano tutelati gli interessi del Comune e dei cittadini. Sono fiducioso, come ho detto poc'anzi, che la maggioranza voti con noi questa mozione perché è interesse della città che il Comune di Arezzo riceva eventuali risorse economiche da questo procedimento penale perché parte lesa dal punto di vista della onorabilità ma anche delle casse economiche e quindi credo che sia fondamentale che tutto il Consiglio Comunale faccia gli interessi della città. L'udienza preliminare sul caso è stata fissata per il prossimo 23 marzo. 13 gli imputati, tra questi anche nomi eccellenti, della politica retina, tra cui appunto il Sindaco, Alessandro Ghinelli e l'assessore al bilancio del Comune Alberto Merelli, oltre all'attuale amministratore unico della stessa Coingas, Franco Scortecci. In una vicenda del genere occorre chiarezza e la chiarezza la si deve principalmente alla città che potrebbe subire da questo procedimento un danno. Se siamo a questo punto probabilmente qualcosa è andato storto, però se qualcosa che va storto non è sul piano personale ma sul piano sociale, sul piano dell'etica e della morale, io penso che sia giusto approfondire e dopo il processo ci darà o non ci darà ragione. Però la città deve sapere quello che accade. Una richiesta quella delle opposizioni in Consiglio Comunale del tutto identica a quella che i sindaci del centro-sinistra che fanno parte della compagine sociale di Coingas oggi hanno chiesto alla stessa società nel corso dell'Assemblea dei Soci.